Siamo con Alfonso Forgione, il direttore scientifico insieme ad Amedeo Feniello del Festival delle Città Medievali che si sta tenendo qui all'Aquila. Oggi è il quarto giorno, domani la chiusura del festival. Abbiamo sentito tantissimi esimi professori venuti da tutta Italia per parlarci del Medioevo. Come sta andando, professore? Sì, decisamente bene perché non ci aspettavamo questa partecipazione di pubblico, ne siamo veramente felici, lo speravamo ma non eravamo così certi. Abbiamo una media di circa 100-150 spettatori per ogni conferenza, che non è poco considerando i giorni feriali, la mattina e soprattutto quello che veramente per noi è importante è la partecipazione non solo del pubblico, degli aquilani o dei turisti ma anche della società civile, cioè delle varie associazioni culturali o di rievocazione che hanno creduto in questo progetto, ci hanno aiutato, ci hanno sostenuto e stanno partecipando in maniera veramente entusiasta. Quindi per noi questo è il primo obiettivo veramente ma veramente importante. Finalmente questa città assieme, società civile, istituzioni, università, comune, riescono a portare avanti un bel progetto di rinascita culturale di questa città e non solo architettonica. Spesso nella nuova società con i nostri ragazzi che hanno una soglia d'attenzione molto molto bassa, lo dico da appunto docente universitario, per noi è importante attirarli, fargli capire il valore della storia, delle proprie radici, delle proprie origini ma soprattutto la conoscenza della storia e attirarli anche con questo tipo di racconto che sia chiaro non è un racconto fantasioso, non è un racconto basato semplicemente su ipotesi o altro, ma all'interno dell'auditorio abbiamo grandi storici, grandi archeologi che raccontano in maniera chiara, semplice e diretta la storia medievale e l'archeologia medievale. Quindi questo tipo di iniziative, al nostro avviso, è importante proprio per far conoscere meglio, in maniera più approfondita, ma perché no, anche in maniera semplice, la storia ai cittadini, ai turisti, ai semplici appassionati. E dunque da questo mondo medievale è tutto, vi ricordiamo ancora domani le attività, sia diciamo così le lezioni di storia, ma anche poi tutti gli eventi e le manifestazioni qui all'esterno nel Parco del Castello. Dal Medioevo è tutto, a voi la linea.